Dieci ordinanze di custodia cautelare in carcere per i reati di associazione per delinquere finalizzati alla truffa alle assicurazioni e il risultato di un'operazione di polizia condotta dalla Questura di Napoli e Roma, denunciate in stato di libertà altre 14 persone. L'indagine è partita dopo i troppi incidenti stradali e soprattutto dopo le troppe similitudini tra gli stessi che hanno destato il sospetto delle compagnie assicurative. Parte proprio dalla denuncia presentata da una compagnia e dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada l'indagine sviluppata in prima battuta dalla Procura napoletana e poi da quella capitolina. Quello che è emerso dopo circa due anni di indagine è un vero e proprio sistema volto a trarre ingenti profitti da incidenti stradali mai avvenuti, però costruiti ad arte da un'organizzazione a delinquere. Il protagonista principale è un esperto avvocato del Foro di Avellino che assieme ad alcuni colleghi si adoperava per inventarsi l'ennesimo incidente costruendoci attorno la dinamica e un fascicolo dello stesso. In pratica i sinistri stradali mai avvenuti venivano opportunamente rappresentati come incidenti con fuga, dove però l'ipotetico responsabile era sempre irreperibile ma il guadagno era sempre assicurato.